Buongiorno Presidente Bielo Buongiorno Quelli che seguono il blog vogliono sapere qualche informazione come siamo messi con la rosa è completa? C'è qualche possibilità di nuovo arrivo? Qualche dismissione? No, noi abbiamo iniziato l'attività ormai da un mese oltre la rosa è abbastanza a buon punto diciamo che può andar bene però il nostro direttore sportivo è sempre pronto se dovesse capitare un'occasione importante cogliere l'occasione Quindi non c'è nessuna voce di qualche cambiamento? No, nessuna voce, tutti stanno lavorando bene domenica abbiamo la prima partita con la F3 andiamo là convinti che possiamo fare bene e partire bene è importante Va bene, grazie Presidente Grazie a tutti